Ettore Mendicino per il Cosenza.it, 20 minuti giocati bene con personalità da parte del Cosenza che però non ha affondato il colpo a Caserta ma ha fatto vedere di essere probabilmente superiore all'avversario. Poi è calato misteriosamente il gol, un incidente di percorso ma comunque c'era stato un abbassamento da parte della squadra rosso-blu e poi invece la grande reazione nella seconda parte. Sì, hai fotografato la partita sicuramente al meglio, ci rendiamo conto di avere un pochino due facce ed è un po' un problema che ci sta caratterizzando nell'ultimo periodo. Dobbiamo ripartire dai minuti positivi, è chiaro che quando prendi lo schiaffo reagisci e magari anche con un pizzico di irrazionalità ti escono fuori le cose migliori. Bisogna cercare di essere più sereni, di essere più consapevoli delle nostre forze e allo stesso tempo però mantenendo un equilibrio per non tornare in errori fatti in passato. Io sono uno che crede nel lavoro, bisogna continuare a lavorare, avere fiducia e soprattutto credere di più in noi stessi, in quelle che sono le nostre potenzialità e sono convinto che potremo uscirne fuori. Oddio, non è che veniamo da chissà quali sconfitti, sicuramente le prestazioni sono altalenanti però sono convinto che potremmo dare invece continuità in positivo. Da punto di vista personale l'ambientamento, i gol aiutano a ritrovare la condizione più che altro psicologica c'è la voglia di fare bene, di spaccare? Certo, certo, ma io sono arrivato qua con tanta voglia. È chiaro che da giocatore io vivo l'umore della squadra e come i miei compagni sicuramente non stiamo vivendo un bellissimo periodo quindi sicuramente sono arrivato in uno dei più brutti periodi della stagione da un punto di vista di risultati, di continuità. Da un punto di vista personale un giocatore quando sta fuori non è mai contento sarei un pazzo a dire che sono felice di aver giocato meno di quello che magari speravo però io sono una persona molto positiva, un ragazzo che crede molto nel gruppo quindi penso nell'importanza anche dei giocatori che stanno in panchina e sono contento di aver dato il mio contributo dalla panchina penso di essere stato un esempio appunto per tanti miei compagni che stanno fuori penso che questo possa servire ad unire il gruppo e quindi riparto da qui con la stessa voglia di prima sperando di fare un grande finale di stagione. Tralasciando la partita folle con la Juve Stabia che fuoriesce da qualsiasi schema Cosenza ha dato l'impressione di non temere nessuno un Cosenza che non ha mai subito tanto neanche con le squadre che in classifica si trova in una posizione migliore e questo è un buon biglietto alla visita per la gara con il Lecce. Sì, sì sicuramente siamo una squadra che non deve temere nessuno siamo una squadra esperta siamo una squadra comunque sia di giocatori importanti e dobbiamo ripartire da noi stessi in questo momento che si chiami Lecce che si chiami Agacras, Monopoli o Vibonese per dire varie posizioni di classifica noi deve importare poco noi dobbiamo lavorare su noi stessi dobbiamo cercare di fare al meglio quello che ci chiede l'allenatore e di sbagliare il meno possibile di essere il più concentrati possibile e ripeto, di pesare ogni momento della partita perché andiamo in un finale di stagione dove i punti si pesano pesano tanto quindi bisogna essere concentrati per lo più su noi stessi indipendentemente dalle squadre che affrontiamo. C'è un vostro compagno che in questo momento sta attraversando un momento difficile uno dei più difficili che può capitare nella vita di un ragazzo la speranza è quella di rieperciarlo presto e magari di dedicargli un bel risultato domenica. Certo, assolutamente sappiamo tutti insomma quello che quello che sta passando Luca e da squadra chiaramente gli facciamo sentire il nostro affetto la nostra vicinanza anche se credo che in questi momenti sia superfluo anche dirle queste cose è giusto che magari ognuno di noi viva questi momenti come meglio crede. L'augurio è quello è un motivo in più sicuramente quello di regalare una grande prestazione una grande vittoria e veramente strappargli un sorriso e che possa dargli la giusta carica anche a lui per ritornare il meglio possibile al più presto. Grazie a tutti.